Come stai cagnolino? Bene. Cosa ci vuoi raccontare oggi? Che domenica dovete venire in teatro al Teatro Impero di Marsala. Anche perché uno ce n'è? Certo. Alle 21.30 perché una band di Marsala ha organizzato un concerto. Di musica? Di musica pop rock. Ah quindi una cosa diciamo accessibile a tutti? Popolare. E quanto costerebbe questo biglietto? 5 euro. Ah neanche per farlo come si dice? No 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 si può mancare. E perché? Perché tutti i fondi raccolti con l'incasso andranno a me. Ah ho capito quindi un cane ricco? Un cane vizioso? Un cane che ha bisogno di cure magari? Tanti cani che hanno bisogno di cure, di attenzioni e cercano casa. Quindi i fondi del concerto saranno destinati all'OIPA di Marsala che da anni cosa fa l'OIPA di Marsala? Da anni ci raccoglie per strada perché noi veniamo abbandonati e ci fa affidare dalle famiglie in giro per l'Italia. Solo che questi trasporti costano tantissimi soldi. E anche perché la benzina aumenta pure. Esatto. Ma noi vogliamo appunto con gli aerei e un biglietto per un cagnolino costa tra i 150 e i 200 euro per cani di piccola taglia. Usare il raneiro? No. Non si può fare. Non il trasporta cani. Solo persone. A volte non è detto che sia meglio. Quindi ricapitoliamo. Il prossimo 30 dicembre domenica. È l'ultimo 30 di quest'anno. Esatto. Quindi il 30 dicembre al teatro di Marsala alle ore? 21 e 30. Ci sarà un concerto di beneficenza che si chiama esattamente? Con Fido nella musica. E Fido è lui? Fido sono io. Quanti anni hai? Tre. È una voce femminile però. È stato castrato? Esatto. Non mi sfugge nulla. Ci sono gli Isabend, ma poi c'è anche il Sound and Voices Gospel Choi. E c'è anche Paola Grupuso. Quindi siamo tutti? Tantissimi. Tranne quelli che vanno al battesimo. Di Giacomo di Girolamo? No. Della figlia. Sì. No. Sì. Certo. Ubi Adele Maiorcessat. Ciao Adele auguri. Ciao Fido. Guardiamo la locandina. Uuh! 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 Tadà! No!